Allora, abbiamo abbandonato la strada principale dei fuoristrada che ci portano dalle cascate del Marmarico a Bivongi alla curva con la Terra Rossa, dove abbiamo trovato uno strettissimo sentiero e stiamo scendendo giù verso la centrale idroelettrica Marmarico, che ancora alla tenera età di 25 anni ci manca da vedere. È un po' il sentiero scivoloso perché non ha la scarpa d'azza e perché è pieno di foglie e le foglie, come si sanno, fanno scivolare. Però speriamo che ci riusciremo ad avvicinare a breve. Poi dovremo risalire e ritorneremo a Bivongi, segnando il tracciato dei fuoristrada che mi manca pure quello. Anche se però Giuseppe e io vorremmo fare il tracciato che ancora non conosciamo, dalla fiumara, quindi nei pressi delle cascate del Marmarico, fino ai bagni di guida. Guardate che bei sentieri. Ma tu preferisci risalire questa pista scivolosa? Voglio vedere, come sono giù vediamola come il sentiero, perché è vero che la pista è scivolosa, ma intanto il salito è diverso. E secondo, quando arriviamo qui, c'è da qui? Secondo te, di là o di qua? 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 Secondo te, di là o di qua?